Franca Irano aveva lasciato l'ospedale qualche minuto prima. Poche curve percorse sulla tangenziale prima di imboccare la statale per tornare verso casa a cerce piccola. La donna di 47 anni era andata al cardarelli per un controllo di routine. Pochi minuti dopo, nella galleria a lama bianca, la sua golf ha urtato il tir che le arrivava di fronte e l'auto è saltata in aria come spinta da una catapulta. I pezzi disseminati per decine di metri raccontano di quanto violento sia stato l'impatto fatale per Franca che dalla sua auto non è più uscita. Si era sposata a San Giuliano del Sannio e dal matrimonio aveva avuto due figli. Operatrice sanitaria, l'ha ricordata il sindaco di San Giuliano, Rosario De Matteis, era alla ricerca di un lavoro ed era stimata da tutti. Un intero paese sconvolto ha riferito Michele Nardacchione, sindaco di cerce piccola. Tutto il consiglio, ha annunciato Nardacchione, ha deciso che nel giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino. Funerali che non sono stati ancora fissati perché per capire cosa sia accaduto in quegli istanti nel buio della galleria il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Nelle prossime ore in procura a Campobasso verrà conferito l'incarico. Le indagini sono affidate alla polizia municipale del capoluogo. A cerce piccola la donna si era ricostruita una vita ma ieri pomeriggio. Il destino le ha messo davanti il muso del camion contro cui si è scontrata la sua golf. Franca Irano è deceduta sul colpo. A lungo la statale è rimasta interrotta per consentire la rimozione dei mezzi e il traffico è stato deviato sulle strade interne.